Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 E' stato spento il rogo che nella giornata di ieri, martedì 22 agosto Si è sviluppato nei boschi di Cencerate e Val Formosa Costringendo l'evacuazione delle case Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varzi, Voghera, Garlasco e Pavia Supportati dall'intervento del servizio antincendio della comunità montana dell'Oltre Popavese I pompieri, anche con l'utilizzo degli elicotteri, hanno lavorato senza sosta per ore Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute